Un furgoncino bianco percorre la strada, seguito da una macchina scura, poi torna indietro da solo. Nelle immagini diffuse da polizie e carabinieri si vedono i momenti appena successivi al sequestro di Andrea Calevo, portato via il 16 dicembre dalla sua villa e liberato il 31. La telecamera di sorveglianza di un magazzino la sera del rapimento alle 21.25 riprende un furgoncino bianco seguito dall'auto di Calevo. Il sequestro è avvenuto da poco. Alle 21.30 il furgoncino ripassa in senso opposto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'auto del rapito era stata appena fatta sparire nel fiume. Sul furgone sono state piazzate le cimici che hanno captato una conversazione chiave tra i sequestratori, quello in cui si discute di una pizza come pasto per il prigioniero. Pierluigi Destri e il nipote Davide Bandoni, entrambi arrestati per il rapimento, decidono di portare a Calevo un trancio di pizza. Vanno all'ipermercato, seguiti dal GPS installato sul furgone, e le telecamere li filmano mentre escono con il cartone in mano.